Gentili telespettatori, gentili telespettatrici, nuovo appuntamento con lo Spazio Lions. Questa volta è con me la professoressa Maria Albrizio, che è delegata del governatore per una iniziativa molto importante e direi anche molto necessaria per la nostra città. L'iniziativa ha una finalità, quella di provvedere al restauro della Santissima Annunziata, un complesso storico monumentale di enorme importanza e che in che condizioni sta in questo momento? Le condizioni sono, potremmo dire, abbastanza critiche. Noi ci troviamo, il complesso, c'è da dire che il complesso è abbastanza ampio. Si tratta di una struttura che per esempio ha tre padroni, tra virgolette. Intendo dire sotto la giurisdizione del comune, della regione per quanto riguarda l'ospedale e per la parte della chiesa, la curia. E basta pensare che ancora adesso il cortile ha delle carenze e così anche per esempio l'esterno e anche il cancello principale è inagibile. Le tre organizzazioni, i tre enti, quindi questo concorre a non consentire una cura del monumento? Io non saprei dire questo, però evidentemente le difficoltà sono legate agli anni, alla vetustà del monumento, alla grandezza, alla complessità del monumento stesso. Ecco, incominciamo allora un poco da lontano, incominciamo a ricordare come e quando è nato questo storico complesso che molti napoletani forse conoscono poco. Sì, il complesso ha mille anni di storia. Già nel 1300 nacque una confraternita, voluta da due fratelli nobili, discondito. Ma nel 1311 credo, intorno a quell'anno, fu trovata una bambina piccolissima, una neonata, nella chiesetta con un biglietto in cui era scritto per ragioni di povertà. E fu questa la molla che fece cambiare la ragione dell'essere, diciamo, della struttura, per cui da quel momento in poi la confraternita si dedicò alla cura dei bambini abbandonati. Quindi da questo nasce l'istituzione della famosa ruota di cui noi napoletani parliamo, che si vede pure a fianco al muro della... La ruota è una struttura, linea, che ha tre aperture. Due servono perché all'interno la rotara, che sarebbe la persona che stava, presidiava la ruota, potesse guardare che cosa succedeva dall'esterno allorquando una mamma o una qualsiasi altra persona depositava un bimbo neonato. Nell'apertura più ampia, invece, era quella deputata all'entrata del piccolo bambino. Bambino che però, se era più grande, addirittura veniva unto di olio perché potesse entrare. E si dice che molti bambini sono anche passati dall'altro lato attraverso delle lesioni anche corporee. Perché non c'era sufficiente spazio. Sì, perché bambini di 7-8 anni, che per quanto macilenti erano sempre più grandi dei neonati. Questi sono quelli che li chiamavano gli esposti. Sì, questi sono il cognome esposito. Questo è durato per moltissimi secoli. Fu Gioacchino Murat, il quale volle togliere questa situazione, questa abitudine, questo nome. Questo nome, sì. Vole sostituire il nome con il nome che gli veniva dato dalla persona che lo trovava, che trovava il bambino. Ah, quindi non si chiamavano più. Che battezzava il bambino, sì. Anche quella è un'altra iniziativa di Gioacchino Murat. Sì, in seguito la ruota poi è stata definitivamente chiusa alla fine del 1875. Però dopo anni, per almeno altri 100 anni, il Befertofio ha vissuto. In questo complesso abbiamo parlato che uno degli elementi architettonici più interessanti è la Chiesa, che pare che fu distrutta e poi ricostruita con la cura di chi? Allora, la Chiesa Primitiva è del periodo angioino. E da questo periodo restano alcune raffigurazioni che oggi si trovano nel Museo Civico Napoletano. Poi c'è stata la grande chiesa del 500, la cui chiesa purtroppo è andata distrutta a causa di un incendio. E nel 700 poi la chiesa fu ricostruita da Luigi Vambitelli e Carlo, il figlio. La chiesa però, quella che noi oggi ammiriamo, ha anche un succorpo sotto la chiesa, poiché bisognava, mentre si ricostruiva la chiesa, c'era bisogno di svolgere le attività, ma allora il Vambitelli pensò di costruire una chiesa sotto che poi corrisponde anche alla chiesa grande, la basilica grande che noi oggi possiamo ammirare. Nella sacristia sono conservati ancora i resti della vecchia chiesa, quella del 500. Quindi ecco, chiedo scusa se ti interrompo, ma in effetti, dopo aver visto questo escursus così bello, così interessante, allora valutiamo ora che cosa effettivamente vogliono fare i Lions. Allora i Lions per prima cosa in ottemperanza a quella che è stata l'iniziativa, la strategia recentemente usata dai Lions, i quali da 100 anni come associazione internazionale si sono sempre interessati di beneficenza e di solidarietà. Oggi invece alla solidarietà si affianca una strategia nuova, una metodologia nuova, che è quella della sussidiarietà, in applicazione all'articolo 118. Noi quindi con la sussidiarietà orizzontale intendiamo stimolare come Lions e come associazione civile le autorità e comunque anche coadiuvare le iniziative più, diciamo le più recenti, le prime iniziative che noi abbiamo fatto sono quelle di accendere un faro sulla struttura attraverso iniziative come questa, parlarne nei luoghi deputati importanti in modo da attirare sulla struttura le iniziative che si potrebbero svolgere nel complesso. E poi abbiamo in animo nel progetto di fare, di svolgere una giornata di lavoro, di impegno, di conoscenza dell'intera problematica della struttura che si terrà nell'Università di Napoli, nell'Aula Bambitelliana della Federico II, il giorno 19 maggio, in cui nella prima mezza giornata saranno trattate relazioni e nella seconda mezza giornata noi certamente chiameremo le persone rappresentative delle istituzioni ad una tavola rotonda a discutere di quello che si potrà fare. Quindi questa è la prima iniziativa. L'altra più concreta è quella di fare noi stessi da tutor a visitatori che vorranno vedere la struttura e spiegare loro le condizioni e le bellezze artistiche del luogo. Ancora i Lions si sono impegnati con le loro professionalità. Noi abbiamo tantissime professionalità all'interno della nostra associazione e moltissime hanno risposto, architetti, ingegneri, a collaborare con me per fare un progetto di ristrutturazione completo, soprattutto di ristrutturazione se ci riusciamo, perché stiamo così quasi, lo dico per scaramanzia, siamo sulla dirittura d'arrivo, ma lo dico per scaramanzia, per quello che riguarda la ristrutturazione, ristrutturazione del cancello grande dell'annunziata, perché attualmente è chiuso e da parecchie crepe e difetti. E quindi con questa apertura del cancello e con queste altre attività si potranno avviare iniziative di visite guidate? Sì, si potranno avviare iniziative di visite guidate e coinvolgeremo anche le scolaresche? Involgeremo sempre le scolaresche in prima persona, perché se i ragazzi si affezionano a comprendere l'importanza di questo bene, che è un bene artistico, un bene culturale, che non è soltanto di Napoli, ma è un bene dell'umanità, noi potremo sperare di poter avere un aiuto sia per la struttura sociale più ampia, per l'ambiente che sta lì, perché questa struttura si trova in una zona di Napoli che è abbastanza delicata, per non dire degradata, e che invece avrebbe bisogno con questa ristrutturazione, con questa restaurazione di un aiuto come volano per un successo per la zona stessa. Quindi questo è proprio il tipico esempio di una iniziativa che coniuga nello stesso tempo il progetto e la necessità di sussidiarietà, di aiuto, di collaborazione con le istituzioni in quel quadro di quella città che vorremmo, che è anche un nostro slogan e per il quale ci si impegna al di là, al di fuori di qualsiasi progetto di natura politica, ma soltanto di impegno culturale e associativo. L'obiettivo sarà quello di emulare, se ci riusciremo, quello che è già stato costruito e attuato a Firenze con l'Istituto degli Innocenti, dove le istituzioni hanno creato una struttura che fa accoglienza, ma che fa numerose attività di convegni, eccetera, che ha aiuto e sussidio ai ragazzi, ai fanciulli, alle loro mamme e anche centro di ricerca. Ecco, concludiamo questa nostra chiacchierata con un auspicio di poter sempre più, come Lions, ma anche come cittadini sensibili, valorizzare le tantissime ricchezze che la nostra città ha e che la nostra nazione ha e che spesso vengono misconosciute o vengono abbandonate. Quindi è una iniziativa meritevole per la quale Maria Albrizio si sta dedicando con passione, coadiuata, come ha già detto lei, da un bel gruppo di professionisti e in un quadro di collaborazione con anche tante associazioni, tanti club della città. Certo, tante associazioni si sono già interessate e si interessano della Santissima Annunziata. Noi daremo anche noi il nostro contributo. Perfetto, allora con questa situazione e con questo auspicio vi salutano Elio Fusco e... Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.